Benvenuti a tutti voi che cercate il vero amore. Mi presento, mi chiamo Sommariflor, sono infermiera e ho lavorato per anni in una casa di riposo e di cura in Belgio, al servizio delle persone anziane e disabili. Questo tipo di lavoro mi ha richiesto non solo tanta energia fisica e forza mentale ma anche una fede salda. Un'altra attività che mi appassiona tanto è scrivere. E questo mi ha aiutato tanto ad approfondire la mia vocazione di suora della carità di namur. Nel 2016 ho ricevuto l'obbedienza di venire in Italia a Tivoli dove ho imparato l'italiano. Il libro che ho scritto è più della semplice biografia. è una ricerca storica, teologica e spirituale allo scopo di aiutare i lettori a conoscere sempre di più il vero amore e a discernere la vocazione che Dio li invita ad abbracciare. Grazie. Grazie. Grazie.